Il Don Carlo è l'opera che è stata scelta dal sovrintendente Pereira per inaugurare il palcoscenico del Teatro del Maggio. Un'opera grandiosa a cui stiamo lavorando io e il maestro Gatti per restituirne quel senso che nello stesso tempo è di intima solitudine di questi potenti che vi sono rappresentati. È la tragedia del potere, di un potere visto nella sua inadeguatezza umana e politica. Ci sono tutti i temi di Verdi che tornano, il rapporto padre-figlio, la sublimazione dell'amore. C'è sostanzialmente un profondo pessimismo, è un libretto che ha origine da una tragedia di Schiller, riadattata, che in fondo è ispirata a fatti totalmente inventati perché la storia vera di Carlo è tutt'altra. Schiller ne fece un eroe romantico, un eroe della decadenza e Verdi continua su questa strada. Noi siamo qui a cercare di restituire soprattutto questo dramma intimo, psicologico, molto moderno, che si avvicina molto a quello che noi oggi viviamo in tutte le scene del potere. Credo che sia un'occasione per venire a sentire uno dei Verdi più straordinari, secondo me. Io invito tutto il pubblico a venire a vederci. Grazie a tutti.